Tantissimi podisti hanno preso parte alla Stracittadina, città dell'Aquila, partenza e arrivo da Colle Maggio e un percorso emozionante tra i vicoli del centro storico. Tanti team sono arrivati da altre città, un nutrito gruppo anche da Vezzano. Voi da dove venite? Noi veniamo da Vezzano. Già avete partecipato alla Stracittadina? Sì, abbiamo già partecipato alle diverse edizioni degli anni passati, è sempre un piacere venire qua all'Aquila a fare questa gara, ben organizzata, un bel percorso, quindi veniamo sempre ben volentieri. Per voi che siete amici della città venite da vicino è bello anche attraversare il centro storico, è un percorso anche suggestivo al di là della difficoltà per chi corre? Assolutamente, soprattutto quello, vedere comunque le bellezze di questa città che è stata fortemente toccata, come tutti sappiamo, è comunque un qualcosa di bello, assolutamente, ripeto, è un percorso straordinario questo qui.